Sulla stabilimento i talcementi di Vibo Marina sembra essere ormai calato il sipario. Ogni sforzo si è rivelato inutile mentre il tempo passava e le garanzie per i lavoratori andavano a diminuire. A nulla sono servite forme di protesta a volte eclatanti degli operai che minacciavano di lanciarsi dai silos. Ieri l'azienda ha accettato dopo l'incontro con le organizzazioni sindacali di offrire ai 31 operai rimanenti degli 84 iniziali un indennizzo in cambio dell'aspettativa non retribuita per un trimestre. Per loro si tratterebbe di un'uscita anticipata al posto della cassa integrazione in deroga fino al prossimo 14 dicembre. Il tutto in attesa di una riconversione del sito. Ipotesi a dir poco aleatoria tanto che le conclusioni dei rappresentanti del colosso bergamasco non sono affatto piaciute alla CGL. Durissimo il segretario provinciale Vibonese Luigi De Nardo che ha abbandonato anzitempo il tavolo della trattativa. Si sono chiusi 75 anni di vita lavorativa, di lotte e di conquiste, di emancipazione sociale e civile attuonato chiedendo a gran voce l'intervento del premier Matteo Renzi per evitare che venga decretata la fine della storia industriale di Vibo Valencia. Un appello accorato al capo del governo più volte giunto alla punta dello stivale negli ultimi mesi affinché si faccia carico di una situazione sfuggita di mano alla politica locale degli imbelli che ha dissacrato molto più della crisi, ha chiosato le potenzialità di questo territorio.